Gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Foggia nelle prime ore del mattino hanno tratto in arresto sei persone nell'operazione denominata Corso Roma. A loro carico il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché di furto e di ricettazione. Le indagini scaturite in seguito al tentato omicidio di Costantino De Cillis avvenuto il primo giugno scorso hanno permesso di accertare come il gruppo criminale capeggiato dal pluripregiudicato Ciro Novelli e dai fratelli Antonio e Romeo Vincenti conducessero una proficua attività di spaccio. Nel corso dell'attività investigativa sono stati acquisiti elementi dai quali risulta che i componenti del clan avevano stabilito la loro base operativa e logistica nelle case popolari di Corso Roma luogo dove risiedono i pregiudicati tratti in arresto. Durante le attività a carico degli indagati nonché dai servizi di osservazione effettuati presso i mini alloggi di Corso Roma è emerso che il posto rappresentava per gli spacciatori un luogo sicuro per custodire ingenti quantitativi di droga. Gli appartamenti sono abitati anche da soggetti che vivono nell'omertà assoluta e non esitano a comunicarsi tra loro l'eventuale presenza delle forze dell'ordine nei paraggi dello stabile. La banda di spacciatori si avvaleva della collaborazione di fiancheggiatori incensurati residenti in Corso Roma. L'operazione è stata portata a termine con il sequestro di ingenti quantitativi di hashish e cocaina.